Benvenuti alla seconda puntata di quanto ho speso con le mie auto elettriche, dopo la sigla. Cari amici teslari, sono passati altri due mesi, mi è arrivata la bolletta di novembre e dicembre, quindi dopo aver fatto il video dei primi due mesi, quindi settembre e ottobre, vediamo come sono andati questi altri due mesi. Due piccole precisazioni barra premesse, la prima è che con questo video io non devo convincere assolutamente nessuno che un'alimentazione nella fattispecie elettrica è migliore o meno costosa di un'altra, GPL, metano, diesel o benzina, ognuno compra quello che vuole e la seconda precisazione è che questi sono dati reali, non sono proiezioni, previsioni. Qui ho preso le mie bollette, i miei consumi, gli abbonamenti che ho usato sulle colonnine e ho fatto semplicemente i conti che ora andiamo velocemente a vedere e vediamo com'è andata. Bene, cominciamo con il mese di novembre e partirei dal fondo di questa tabella, cioè dal PUN, il prezzo unico nazionale dell'elettricità, che è stato per il mese di novembre di 0,22, quindi un po' più basso dei mesi precedenti. Perché è importante? Perché comunque il contratto che ho io varia in base al PUN, cioè il contratto che potete fare oggi, nessuno vi dà ormai un contratto a prezzo fisso. Quindi questa è una precisazione importante. Il PUN di 0,22 nel mio caso mi ha portato, se andate poco sopra nel riquadro in rosa, a un prezzo al kWh finito, quindi tutto compreso, di 0,36€ al kWh, prezzo finito con tasse e tutto il resto. Giusto per contesto, prima dei vari aumenti che ci sono stati, io pagavo 0,16€, 0,17€. Detto questo, partiamo subito con i consumi. Vi ricordo che io ho fotovoltaico con Powerwall, che vedete qui, ovviamente novembre-dicembre, la produzione è stata abbastanza irrisoria. Comunque sia, io ho avuto un consumo totale della casa, tutto compreso, quindi sia le macchine che la gestione della casa, di 691 kWh. Questo dato l'ho preso dall'app del Powerwall 2. Il consumo fatturato, quindi quello che io ho pagato effettivamente al mio gestore, è stato di 515 kWh e questo l'ho preso dalla bolletta. La differenza è quello che io ho autoconsumato, quindi il prodotto del mio fotovoltaico. Quindi la percentuale di corrente che io ho autoprodotto e quindi autoconsumato è del 25%, ovviamente molto più bassa del mese precedente, proprio perché ormai con l'inverno c'è meno luce, meno irraggiamento. Ora, il consumo dell'auto è stato di 310 kWh, lo vedete sulla colonna di destra. Ovviamente ho tolto, questo è il consumo totale, senza considerare quello che io mi sono autoprodotto, quindi ho tolto a questo 310 kWh il 25% che ho autoprodotto e ho pagato quindi per l'auto 231 kWh. La rimanenza 284 è stato il consumo della casa. Quindi partiamo da questo valore, 231 kWh. 231 kWh per 0,36, andiamo un poco sotto, vuol dire che io per le ricariche casalinghe ho speso 83,27 euro. Oltre a questo ho usato degli abbonamenti, nello specifico Enel X e B-Charge, per i quali ho speso 152,44. Quindi io per le auto ho speso, dato reale, 235,71 euro. Quanti chilometri ho fatto? Tra la Tesla e la 500, vedete sopra, 3.300 e 977, ho fatto 4.306 chilometri con entrambe le auto. Questo mi porta, nel caso reale, specifico della mia situazione, ad aver speso 5,47 euro per ogni 100 chilometri. Questo valore comprende tutto, eventuali perdite, tasse, tutto, assolutamente valore. L'ordo finito, 5,47 euro a ogni 100 chilometri per una macchina da 500 e passa cavalli e l'altra, vabbè, piccolina, però 120 cavalli anche lei. Se non avessi avuto il fotovoltaico, quindi tolta l'autoproduzione, avrei speso, ovviamente, un po' di più, 6,13 euro. Ovviamente l'impatto di questo mese è minimo, quindi la differenza è minima. Quindi, se volete farvi i vostri conti e non avete fotovoltaico o altro, considerate che questo mese la differenza è stata veramente irrisoria, anche perché comunque ho caricato molto fuori, come vedete, il costo degli abbonamenti. Passiamo ora al mese di dicembre, vediamo com'è andata. Partiamo anche in questo caso dal PUN, che è salito. Quindi, se nel mese di novembre era 0,22, a dicembre è risalito in maniera abbastanza sostanziosa, perché è andato a 0,29. Questo valore del PUN mi porta un costo, il kWh finito per dicembre, a 0,45. Quindi anche in questo caso è un po' di più. Siamo quasi al triplo rispetto al valore che avevo prima degli aumenti. Andiamo a fare lo stesso discorso, andiamo un po' più spediti, perché ormai sapete come funziona la tabella. Consumo totale, lo leggete. Consumo fatturato, effettivamente, 544. In questo caso l'autoproduzione è scesa ulteriormente. Ovviamente il mese di dicembre ancora di meno. A gennaio dovrebbe risalire un po', perché ormai abbiamo passato il punto di maggiore buio. Comunque 15%. Rifacendo gli stessi conti, in questo caso ho caricato molto meno a casa, perché ho fatto molti meno chilometri, quindi 158 kWh misurati con il misuratore che vi avevo fatto vedere in un altro video, quindi sono dati reali, meno il 15% che è l'autoproduzione, ho consumato 135 kWh di ricariche a casa. Per 0,45 a casa ho speso 61,34 euro. Di abbonamenti ho speso 113, per un totale di 174,58 euro. Come dicevo, ho percorso meno chilometri, la Tesla 2003, la 500, 560, per un totale di 2.930 chilometri. In questo caso il costo per ogni 100 chilometri è stato di 5,96 euro. Comunque è rimasto sotto i 6 euro. Perché è salito? Perché ovviamente il costo casalingo è salito proprio del prezzo al kWh. Se non avessi avuto fotovoltaico e powerwall, anziché 5,96 euro avrei speso 6,31 euro. Quindi anche in questo caso un aumento irrisorio. Bene, questo è il dato per quanto riguarda novembre e dicembre. Direi che in linea di massima rimaniamo più o meno intorno ai 6 euro negli ultimi 4 mesi, più o meno ogni 100 chilometri. Sembra che il PUN stia scendendo, speriamo, in questo momento a gennaio comunque siamo a un valore di 0,17 come valore medio, sperando che rimanga così. E quindi non ci resta che aspettare e vedere se questo valore ogni 100 chilometri scende. Sarà interessante vedere poi con l'arrivo dell'estate l'impatto che avrà l'impianto fotovoltaico con l'accumulo. A questo punto vedremo veramente la grossa differenza tra averlo e non averlo. Bene, questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!